Va bene. Suono. Sì, buonasera, chi siete? Quanti ve ne siete? Mi sono adeguato e mi ha detto, me ne sono uno. Mi fa, qual è la motivazione? Mi ha detto, guardi, ho smarrito il documento di entità. Allora, è smarrizione di documentazione e dobbiamo farla a denunciazione. Le apro. Faccio dieci metri, arriva lui. Chi siete? Ci sono le telecamere, cazzo, guarda, no? Ero quello dieci metri fa, ho suonato. Ah sì, mi sono già portato avanti con la sua situazione. Se vuole darmi già un documento, gli ho detto. Ma, aspetta. Io te l'ho perso! Io te l'ho perso! Ah sì. Allora, c'era... Aspetta il collega per la denunciazione. Vado di là, c'è uno, si accomoda. Comincia. Io ho detto, sarà un DJ della caserma, sai?